quello che vedremo oggi è una chicca che può essere utile sia per la preparazione da show che anche per la preparazione delle gare di toilettatura quello che mi interessa è aprire tutto il pelo quindi prima cosa che faccio è insaponare la zampa distribuisco bene sulle mani e vado a distribuirla sulle zampe posteriore dove ho necessità di intensificare il colore volta fatto questo passaggio da dietro in avanti e vado a fissare